A seguito dell'incontro convocato dal presidente della regione Marco Marsiglio e dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Qualesimale, arriva uno spiraglio per i lavoratori della Celta. Ci sarebbe infatti una società che ha manifestato grande interesse a rilevare il gruppo, che comprende anche lo stabilimento di Tortoreto, che occupa ad oggi circa 70 lavoratori, tutti con un'alta specializzazione nel settore della cyber security e dell'automazione delle reti in ambito di energie e trasporti. Alla riunione erano presenti anche i segretari territoriali di CGL e CISL e una rappresentanza della RSU. Una delle novità un po' diciamo anomale rispetto alla procedura che è in essere sulla Celta di Tortoreto. Noi abbiamo ricevuto una mail dalla regione dove ci invitava ad un incontro interlocutorio sul problema della Celta di Tortoreto. Ci siamo ritrovati ad un tavolo, uno dei due competitor della Celta di Tortoreto, perché ricordiamo che la Celta di Tortoreto c'è un'asta dove partecipano due concorrenti, uno è il gruppo PSC, il gruppo Pesce che ha acquisito anche l'Italtel e questa società che si chiama Digital Platform che è in concorrenza con questo gruppo Pesce. Quindi ci siamo trovati sul tavolo l'amministratore delegato del gruppo Digital Platform che ci è venuto a dire che ha fatto un rilancio più alto rispetto al gruppo Pesce e quindi secondo loro sarebbero i vincitori dell'asta della Celta di Tortoreto. Noi abbiamo preso atto di quello che abbiamo ascoltato al tavolo regionale, ribadendo anche che non abbiamo pregiudizi né per l'uno né per l'altro. Quello che interessa a noi è che comunque si venga ad investire sul sito di Tortoreto con un piano industriale credibile, perché non fa la differenza a chi offre di più, fa la differenza a chi rimane di più sul sito di Tortoreto e del gruppo Celta, perché parliamo anche di Piacenza, Avellino e Roma e che venga ad investire un columbiano industriale credibile per il decennio a venire. Ci siamo fermati lì perché noi non abbiamo la titolarità di discutere su di un tavolo regionale quando c'è un'amministrazione ancora in essere. Quindi aspettiamo quello che ci dicono i commissari perché la ratifica dell'acquisizione della Celta deve essere fatta al Ministro dello Sgruppo Economico. Siamo disponibili a trattare quando i commissari ci verranno a dire sono questi i proprietari del gruppo Celta di Tortoreto. Fino ad oggi non abbiamo avuto notizie, sappiamo che i commissari si stanno muovendo e ci aspettiamo che semplificano questa procedura perché si sta allungando anche fin troppo e che finalmente i lavoratori del gruppo Celta di Tortoreto di Piacenza, Roma e Avellino vengano a sapere finalmente chi siano gli acquirenti, anche perché stanno vivendo in un limbo. Don't'm Andate